Aminta di Tasso è una favola pastorale che fu rappresentata nel 1573 nei giardini dell'Isola del Belvedere dove la corte degli Est si era riunita e Tasso poté rappresentare davanti a loro, perché favola è il fabula latino, rappresentazione teatrale, una vicenda che ha per protagonisti i pastori. Come già era accaduto nel mondo classico con Virgilio e le sue Buccoli, ma ancora prima in età elenistica con gli Dilli di Teocrito, ed è un genere la poesia pastorale che fu in auge anche in età rinascimentale, per esempio penso all'Arcadia di Jacopo Sanazzaro oppure all'Opera di Poliziano o di Lorenzo dei Medici. L'ambiente dei pastori come un ambiente autentico, spontaneo, evidentemente contrapposto alla vita di città, alla vita della corte, anzi questa è la chiave di lettura che dobbiamo tenere presente quando ci occupiamo di Aminta di Tasso. Il testo teatrale di Tasso non è né una commedia né una tragedia, non è una commedia perché non ha un'ambientazione cittadina che viene ritratta realisticamente, non ha nulla a che fare con il comico perché i toni prevalenti sono seri, patetici, sentimentali, e d'altra parte non è una tragedia perché non ci sono né personaggi sublimi né uno stile elevato e non c'è nemmeno la catastrofe finale perché in questo caso abbiamo il letto fine. Quel che conta è che rispetto al pubblico dei destinatari il testo teatrale è stato concepito come un divertimento di corte, anzi sono molto frequenti anche i riferimenti all'ambiente cortigiano, dietro alcuni personaggi protagonisti si possono riconoscere dei personaggi effettivamente esistiti, per esempio dietro Tirsi si può individuare il poeta stesso, ma questa idea della corte porta anche da una parte alla volontà di celebrarla perché la corte è la destinataria del testo teatrale, ma d'altra parte in realtà Tasso non può, è nella sua natura, rinunciare ad esprimere le proprie perplessità, la propria insofferenza per tutti i rituali, le convenzioni, le norme e anche le ipocrisie che caratterizzano la vita della corte. È ancora più urgente dunque nel suo caso il bisogno di una vita semplice, una vita in cui le persone si comportino in modo spontaneo. Questo è un atteggiamento che caratterizza Tasso e che emerge anche nella lettura della Gerusalemme liberata. Da un lato c'è la corte che costringe vincola ma rappresenta pur sempre un luogo sicuro, la protezione e l'accoglienza, e dall'altro invece c'è questa ambizione, questo bisogno di sognare un'evasione in un mondo che sia a contatto con la natura, in un mondo di favola in armonia con la natura. E infine c'è l'idea edonistica della realtà, l'idea dell'edonismo, cioè della ricerca del piacere che viene inteso come qualcosa di naturale. Era questa l'idea propugnata in piena età rinascimentale, ma nell'epoca della controriforma il piacere invece è visto come qualcosa di peccaminoso. L'amore non è più libero di esprimersi ma è legato ai sensi di colpa perché viene visto come il peccato. Ebbene, Tasso recupera e richiama quest'idea edonistica ma è anche consapevole del fatto che quella libertà ormai è perduta. Nell'epoca della controriforma, nel mondo delle corti in cui prevale il senso dell'onore, l'osservare l'etichetta come usiamo dire ancora noi oggi. E così l'invito ad amare si rovescia, perde forza e non resta che un sentimento di malinconia e di nostalgia per ciò che è andato perduto.